Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Aerotrack Simulator 2 dedicato Ciao a tutti, benvenuti al stream, oggi faremo un viaggio, abbiamo il nostro passaggio della settimana Salute a tutti e benvenuti alla live, oggi, on va continuare il nostro diffi con la mythic Turbostar The Half Garage E quindi, arrivato a questo punto, io direi di cominciare Prepariamo il nostro passaggio Il nostro mezzo e poi partiamo E adesso, andiamo, andiamo, let's go We will start our journey We will start our journey from Budapest and we finish to Vienna Tell me why When the night is calm and the land is dark And the moon And the moon, it's the only light we'll see Questo è il mitico Turbostar di Half Garage Questo è il mitico Turbo Star di Half Garage And this version And this version has 650 horsepower And this version And this version è 650 horsepower And this version è 650 horsepower And this version è 150 horsepower And this version di Bassolopsabi And the Second version èengo And me love tofat And the il tubo di sciopo ma sciopo ma invidia si le la secra a rio e un aluminium Ralf Garage ha fatto un buon lavoro, veramente fantastico, quindi questo mod per almeno 5 euros, you have open pipes, the engine of 650 horsepower, the pipes American style, the sound of open pipes and the wheel in aluminium, only 5 euros Come sempre il martedì è dedicato appunto al turbostar, il mitico turbostar e iniziamo la settimana, the stream, so, our rendezvous, on Tuesday, it's our rendezvous, It's our beginning of the stream week. It's our beginning of the stream week. It's our time with the turbostar of Ralf Garage. It's our time. It's our time with the stream week. It's our time. e la video la video sera disponible sur la chaîne youtube le jeu d'hier vous verrez cette vidéo sur youtube le domaine d'hier deux jours après sorry for my bad English and for my et désolé pour mon mauvais français pardonnez-moi amis français ou de langue française et amis and friends of English language I'm so sorry for my bad English but I think that the bad speaking is due to not not enough practice the same thing is when you do sport if you don't do entrainment you will not do your best and that's why I hope that I will I will speak bad better passing the wicks the wicks ralph garage e anche tu potrei dire what a mod quel mode quel mode oh la la e anche tu cani a e anche tu un 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Buon viaggio 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 Closet by an accident. Because of accident. Sto cercando un nuovo percorso. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Buro-bu-bu-bu, buro-bu-bu, buro-bu-bu. Ancora di canzi ora. Morta questa. Damn. Questo... Questo camion di Ralph Garage ha una frenata incredibile. Questo camion di Ralph Garage è molto pronto per la frenata. Molto reattivo. Dopo la presenza del pedal, la frenata comincia a stoppare. Questo camion di Ralph Garage ha una buona frenata. La frenata comincia a ralentir. La frenata comincia a ralentir. La frenata comincia a ralentir. La frenata si può andare a ralentir. La frenata è un cartone. La frenata si può andare a ralentir. è facile a test so i was saying that Raffa Garage here on ATS on Aerotrack Simulator 2 is a great motor one of the best or maybe the best one the number one Raffa Garage mods e ragazzi che devo dirvi ecco ce l'ha detto il navigatore dicevo che questo mezzo è fatto in una maniera incredibilmente perfetta sono davvero degli ottimi mod mod quelli di Raffa Garage mi raccomando se possiamo sosteniamoli qui acquistando anche qualche mod a pagamento come quella che ho io nel pacchetto questo qui insomma motore marmitte sono delle marmitte aperte e cerchi in alluminio e insomma vale la pena supportare Raffa Garage Raffa Garage un nome una garanzia e siamo arrivati anche a destinazione e siamo arrivati a destinazione e siamo arrivati a destinazione e siamo arrivati a destinazione a presto uscire adesso tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra voltare a sinistra Eccoci a ritmo, sani e salvi Grazie, grazie assai E qui poi abbiamo già il nostro prossimo carico per la nostra prossima missione Sentite i bassi di questo bestione Here the bus of this beast of track This mod is by Ralph Garrosh, don't forget Ralph Garrosh, 84 E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? Perfetto Questa nostra, questa nostra mini, questo nostro mini viaggio termina qui Vi ricordo che il video sarà disponibile su YouTube Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti